Migranti, la campagna ormai al collasso, con gli ultimi sbarchi le strutture della regione non hanno più posti disponibili per i profughi, ma si annunciano altri arrivi, la grande solidarietà del centro mare chiaro di Napoli. Renzi annuncia il duello con Demita, il premier domani in campagna, prima a Napoli per la firma del patto per la città, poi ad Avellino per il referendum e venerdì alla 7 il faccia a faccia con il leader di Nusco, che sostiene il no. Maxi sequestro di merce cinese, l'operazione della finanza portata a termine in un negozio di Benevento, recuperati almeno 47 mila articoli di prodotti ritenuti non sicuri e pericolosi per la salute delle persone. Nessuna violenza contro i pazienti, così si sono difesi gli operatori della casa di riposo Lager scoperta ad Acerno, nel Salernitano, durante l'interrogatorio di garanzia, ma per gli inquirenti i fatti accertati sono molto gravi. Foti riparte con un flop in consiglio, il sedaco di Avellino presenta e due nuovi assessori, ma la seduta salta alla fine per mancanza di numero legale. I dissidenti PD all'attacco già lanciano il centrosinistra alternativo alla maggioranza. Notte di campionato in diretta su 8 Channel, stasera dalle 20.30 sul canale 696 Febbre da Stadio per seguire in diretta le sfide della B, di Avellino, Benevento e Salernitana. Dagli stadi le interviste ai protagonisti del dopo partita. Rieccoci edizione delle 14, ben ritrovati con 8 Channel News. In apertura continuano le operazioni di accoglienza dei migranti sbarcati domenica a Napoli. Il prefetto intanto ha ordinato il dissequestro degli abiti griffati sequestrati in diverse operazioni contro la criminalità per vestire i profughi. Sentiamo. I capi di abbigliamento griffati e contraffatti per vestire i migranti. Con uno scatto di solidarietà il prefetto di Napoli, Maria Gerarda Pantalona, riesce a trovare una soluzione rapida ed efficace per un problema che appareva più che difficile affrontare in poche ore. E allora ecco l'idea fatta propria e rilanciata ieri dallo stesso ministro dell'interno, Angelino Alfano, in visita a Napoli. Nei depositi giudiziari delle forze dell'ordine giacciono migliaia di indumenti sequestrate ai signori del falso, dai giubbotti, alle tute, dai maioni alle scarpe. Materiale che resta inutilizzato fino al termine dello svolgimento delle indagini e dei processi a carico dei contraffattori. Un modello vincente, quello elaborato dal prefetto Pantalone, presente in prima linea sul molo 21 della stazione marittima domenica mattina a coordinare le operazioni di sbarco dei 465 profughi salvate nelle acque del Mediterraneo. Intanto continuano le operazioni di accoglienza. Il centro mare chiaro di Napoli ha ospitato decine di ragazzi senza genitori e proprio qui è partita una gara di solidarietà per donare qualsiasi bene ai minori. C'è stata una solidarietà incredibile, bellissima, abbiamo avuto tantissime donazioni, ora però abbiamo un problema, dobbiamo regolare questa solidarietà perché altrimenti ne veniamo subissati. Siamo oramai costretti a dire basta perché veramente non sappiamo dove metterle, tutte le stanze sono stracolme di indumenti, vestiario appunto e bene di prima necessità. Arrestato pochi giorni fa per l'omicidio di Mario Mazzanti è stato scarcerato per un errore di notifica. Protagonista della singolare vicenda, un 17enne dei quartieri spagnoli, presunto killer della paranza dei bambini. Il giovanissimo affiliato alla Camorra è uscito di carcere per un errore formale. I genitori non sono stati avvisati in tempo. Ad annullare la misura cautelare è stato il GIP. Il provvedimento di scarcerazione però non fa tornare il giovane in libertà perché l'ordinanza di custodia cautelare era stata eseguita in carcere dove era già detenuto per una precedente condanna e dove resterà ancora per qualche mese. E adesso parliamo della tragedia di Caserta dove ieri Vincenzo Mongillo si è impiccato a tre mesi dalla morte di suo fratello Marco, ucciso per gioco a casa di amici. Qualche amico parla di sensi di colpa per quel tragico pomeriggio di luglio quando Marco venne sparato dal reo confesso Zampella, amico di suo fratello. Simonetta Ieppariello. Marco Mongillo morì lo scorso luglio al termine di un gioco finito male. Ieri il fratello Vincenzo si è impiccato. Marco fu ucciso da un colpo di pistola alla testa sparato da un amico che ai carabinieri spiegò di aver sparato per gioco. Un gioco costato la vita al ventenne di Caserta. Il fratello era presente ma il militare ha sempre raccontato il contrario. Il giovane prima di togliersi la vita ha lasciato un biglietto ai genitori. Scusami mamma voglio andare a fare compagnia a mio fratello ha scritto. Vincenzo era una persona per bene ma era rimasto scioccato dalla morte di suo fratello Marco. Nessuno di noi può sapere cosa sia avvenuto quel pomeriggio di luglio ma può essere che Vincenzo sia ammazzato per senso di colpa o di rimorso forse ma forse la verità non la saprà mai nessuno. Alle 5 di ieri mattina seduto al tavolo del suo computer Vincenzo Mongillo aveva scritto ci sono persone che non scorderemo mai buonanotte. Nel bagno dove dopo mezzogiorno lo zio lo ha trovato impiccato col guinzaio del cane c'era anche il bigliettino destinato a sua mamma. Da quando Marco era morto a luglio raccontano gli amici non c'era stato quasi un giorno in cui Vincenzo non avesse scritto qualcosa dedicato al fratello. Nei post lo chiamava Allo oppure Marchitier. In galera per la morte di Marco Mongillo c'è Antonio Zampella che venne arrestato per concorso in omicidio ma come siano andate veramente le cose quell'8 luglio maledetto nessuno l'ho ancora chiarito. Vincenzo probabilmente sapeva anche se in un altro post rivolgendosi al fratello morto scrisse vita mia mi stanno dicendo che non sono sincero se sincerità vuole dire verità allora ti chiedo di aiutarmi a ricordare. Il ricordo e il dolore avevano sconvolto la mente di Vincenzo racconta donna Antonello Giannotti parroco della chiesa del buon pastore. Vincenzo era stato distrutto dalla morte del fratello era depresso ma non aveva voluto nessun supporto psicologico. Ieri l'ha fatta finita e ora la sua morte porta con sé due misteri. La politica e il premier domani in Campania prima a Napoli per la firma sul patto per la città poi ad Avellino per il referendum e nella sua e-news Renzi ha annunciato per venerdì alla 7 il faccia a faccia con Ciriaco De Vita che invece sostiene il no. Sentiamo. Dopo mesi di polemiche e scambi di accusi è finalmente arrivato il giorno del faccia a faccia tra il premier Renzi e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Domani in prefettura la firma al patto per Napoli da 308 milioni che sblocca importanti investimenti per il futuro della città. È da fine giugno, in pratica da dopo la vittoria alle elezioni amministrative, che il sindaco di Napoli chiedeva un incontro con Renzi, vertice sempre saltato perché l'ex PM non intendeva riconoscere il commissario sulla bonifica di Bagnoli. La svolta solo a fine settembre quando è stato avviato il confronto con il sottosegretario De Vincenti e Palazzo Chigi ha ripreso a parlare con la struttura del comune di Napoli, complice all'intervento del presidente della Repubblica Mattarella dopo la sua visita a Napoli. Ma è la conferma dell'attenzione di questo governo verso il mezzogiorno, conferma il parlamentare renziano Luigi Famiglietti. Molte novità verranno anche dalla nuova legge di stabilità che sta per arrivare alla Camera e nella quale c'è di nuovo una forte decontribuzione per le nuove assunzioni al sud. Questo sicuramente farà aumentare i posti di lavoro così come è successo nel 2015. Renzi domani farà tappa nel pomeriggio ad Avellino al Teatro Gesualdo per la campagna sul referendum. Stamane c'è stato un primo sopralluogo delle forze dell'ordine per mettere a punto il piano di sicurezza. E nella sua news settimanale il Premier annuncia il duello con Ciriaco De Mita sul referendum rifilando una stoccata a Massimo D'Alema, il quale, dice Renzi, non trova di meglio che insultare gli elettori anziani. Io invece, spiega il Presidente del Consiglio, continuo a fare confronti, credo civili e pacati, con il mondo del no. La Procura della Repubblica di Napoli Nord sentirà nei prossimi giorni come persona informata sui fatti Sergio Di Palo, l'ex fidanzato di Tiziana Cantone, la ragazza 31enne di Mugnano di Napoli, suicidatasi nel settembre scorso dopo la diffusione dei suoi video-hard. Intanto il PM di Napoli chiede ai vertici della Apple di fornire il codice segreto di accesso all'iPhone di Tiziana. I dettagli. Uno scandalo-hard è il suicidio di una bellissima 31enne. Il caso di Tiziana, la ragazza di Casalnuovo, suicidatasi in casa di una zia Mugnano per essere finita al centro dello scandalo a causa di un video-hard girato con il suo fidanzato, è diventato virale, è diventato un caso internazionale. Ebbene, l'inchiesta sembra essere a un punto fermo perché lo smartphone della giovane suicida è un iPhone ed essendo dotato di un codice che al momento è inaccessibile e non può essere consultato. E allora ecco che si ripropone la contesa con la Apple per avere il codice segreto e aprire il telefono. Il PM titolare del fascicolo Rossana Esposito ha confezionato un'arrogatoria internazionale da inviare agli Stati Uniti tramite il Dipartimento di Giustizia dell'Ambasciata di Roma, rappresentato da una funzionaria del governo americano, con il quale il PM è in costante contatto. Nell'ufficio del PM Esposito intanto due giorni fa è stata ascoltata un'amica di Tiziana Cantone. Si tratta di Teresa Petrosino, giornalista di un emittente locale che aveva rilasciato delle dichiarazioni sulle confidenze fattele da Tiziana. Voleva cambiare vita? Era finita in questo schifo. La ragazza è una testa chiave per la procura, l'unica che non ha avuto remore nel raccontare ciò che le disse Tiziana poco prima di morire. Voleva cambiare vita? Tiziana sì. A 33 anni i suoi video 8 erano finiti sul web ed erano diventati virali. Si era rivolta in prefettura per cambiare anche il cognome, poi aveva denunciato quattro ragazzi indagati per diffamazione, ma non aveva però fornito il nome di colui che aveva girato il filmino, divenuto virale. È stato però rintracciato dalla procura di Napoli Nord e messo sotto torchio. Tutto ruota sull'istigazione al suicidio di Tiziana. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti intanto ha già fatto sapere al Tribunale che la Apple potrebbe non fornire il codice immesso da Tiziana nel suo cellulare, ma richiedere di inviare il cellulare degli Stati Uniti d'America per poterlo aprire e renderlo fruibile agli investigatori. Potrebbe essere stata la gelosia, la causa scatenante di un vero e proprio agguato ai danni di una tredicenne picchiata selvaggiamente da almeno sei coetane in piazza della Repubblica ad Eboli. L'episodio sarebbe avvenuto domenica sera, la vittima è stata ricoverata all'ospedale di Battipaglia con una prognosi di una settimana. Sull'episodio indagano i carabinieri, al momento però sono due le persone denunciate. Ancora cronaca, maxi sequestro di merce di fabbricazione cinese rinvenuta dalla Guardia di Finanza in un negozio di Benevento. Si tratta anche di articoli ritenuti non sicuri e pericolosi per la salute delle persone, hanno spiegato dalla Finanza. Alessandro Fallarino. È ormai risaputo come alcuni prodotti che arrivano nei container dalla Cina non rispondono agli standard di sicurezza prevista per i paesi della Comunità Europea e dalle leggi italiane che regolano il commercio. Fatto sta che puntualmente questi materiali, che siano essi apparecchiature elettriche, accessori, abbigliamento o materiali di ferramenta, arrivano e vengono venduti alla luce del giorno nei negozi gestiti da persone di nazionalità cinese. E nelle ultime ore i finanzieri del nucleo di Polizia Tributaria di Benevento hanno effettuato un maxi sequestro di oltre 47.000 articoli di varie marche, tutti provenienti dalla Cina, privi a delle indicazioni previste dal Codice del Consumo. Migliaia di prodotti sequestrati in una delle attività commerciali presenti a Benevento e che se immessi sul mercato avrebbero fruttato almeno 15.000 euro per il proprietario che al termine dell'operazione è stato segnalato alla Camera di Commercio di Benevento che procederà ad irrogare le previste sanzioni amministrative. La finanza spiega e mette in guardia gli acquirenti di quel tipo di materiali che a volte possono essere anche rischiosi per la salute e la sicurezza, soprattutto a causa della scadente qualità della merce. A Dercolano i carabinieri hanno arrestato 5 persone per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio che avevano nascosto droga, munizioni e soldi in un cassetto a scomparsa ricavato nel muro della cucina. La scoperta è stata fatta durante dei controlli antidroga che hanno visto i militari impegnati anche a Napoli, in particolare a Scampia e a Caserta. Nell'abitazione di Dercolano sono stati trovati 72 grammi di cocaina, in parte già divisa in dosi, più di 4.000 euro in contante, due proiettili per arma semiautomatica e materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente. Al cassetto a scomparsa si accedeva dal muro piastrellato, pigiando un bottone si apriva il vano nascosto da una mattonella. Nessuna violenza contro i pazienti, solo parolacce, così si difendono gli operatori della casa di riposo Lager scoperta ad Acerno nel Salernitano. Ieri l'interrogatorio di garanzia, Rossella Strianese. Non li abbiamo toccati, nessuna violenza, solo invettive, così si difendono gli operatori sociosanitari della casa di cura di Acerno, Villa Igea, la bed house dove secondo i magistrati si sarebbero verificati continui maltrattamenti agli anziani ospiti e ai minorati psichici che risiedono nella struttura. Le immagini della telecamera nascosta dai carabinieri del resto confermano le accuse, ma nello stesso tempo non provano che si siano verificate anche violenze fisiche nei confronti dei poveri malcapitati. Ed è proprio su questo che la difesa si sta basando per respingere le accuse. L'inchiesta è nata dalla denuncia di due ex dipendenti della struttura. Cominciata su presunte carenze igienico-sanitarie, gli inquirenti hanno poi scoperto, grazie a quel video, che c'era ben altro. Ieri, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, sei degli indagati raggiunti dal provvedimento di sospensione hanno parlato per quattro ore, tentando di giustificare i loro comportamenti. Davanti al GIP sono comparsi il direttore della struttura, Roberto Di Lascio, gli operatori Rita Di Nicola, Raffaele Pecoraro, Pierina Capone, Salvatore Di Nicola e Alfonsina Rubino. Tutti hanno ammesso il linguaggio volgare utilizzato nei confronti degli anziani, affermando di esserne rammaricati, ma hanno respinto le ipotesi di reato di maltrattamento. L'amministratore ha affermato che all'interno della casa di riposo erano state installate ben otto telecamere e si è detto disposto ad un sistema di collegamento online proprio per dimostrare la correttezza dell'operato degli impiegati. Gli altri coinvolti hanno scelto il silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Ad Avellino il sindaco Paolo Foti riparte con il programma di fine consigliatura, ma perde Francesca Di Iorio, che passa all'opposizione. I numeri in consiglio per il sindaco sono sempre più risicati e intanto i dissidenti del PD lanciano già la sfida per il 2018. I numeri sono sempre più risicati, tant'è che appena l'opposizione ha abbandonato l'aula è caduto il numero legale. Giunta nuova ma vecchia storia per il sindaco Foti ad Avellino che ieri in consiglio ha perso un altro pezzo della sua maggioranza. Francesca Di Iorio è tornata a sinistra. In aperta polemica con il PD e con il primo cittadino per aver ignorato i problemi della commissione, le politiche sociali da lei presieduta e inattiva da quattro mesi. L'azzeramento dell'aggiunta e l'azzeramento di tutte le cariche è quello. Significa che non andava bene, si doveva cambiare rutta. Non basta una casella e non è l'accordo tra la parte che può far cambiare idea a Francesca. Ma Foti tira dritto e nella relazione snocciola il programma di fine consigliatura, un refrain ascoltato già tante volte. Chiusura dei cantieri, bonifica dell'isochimica, completamento del centro autismo e riapertura dell'Eliseo. E intanto liquida così il mini rimpasto. Si è trattata di una messa a punto della squadra e del programma di governo. Non mi appassiona la discussione che ha un fondo di strumentalità evidente se siano troppi pochi i cambi. Alla fine è sempre mia la responsabilità complessiva e sempre io dovrò dare conto alla città e a questo consiglio dell'azione collegiale dell'esecutivo. Il mini rimpasto di Foti per Gianluca Festa diventa l'ennesimo mini rimpasticcio ma i dissidenti provano già a guardare oltre e aprono la fase 2.018 verso le prossime amministrative. Pensiamo al futuro perché il presente è troppo triste. Troveremo molte macerie, cominciamo a lavorare da oggi, c'è tanto da fare ma mi sembra che il clima attorno a noi sia buono soprattutto se riusciremo a coinvolgere quella parte di città che si è un po' distaccata ma della quale c'è bisogno. Stop ai manifesti funebri selvaggi a Qualiano in provincia di Napoli. L'ordinanza del sindaco fa discutere e divide i cittadini. Rocco, fatti bene. Niente più manifesti funerari selvaggi a Qualiano imbrattano la città. Lo ha deciso il sindaco Ludovico De Luca che con propria ordinanza ne ha vietato l'affissione negli spazi non autorizzati. Nel provvedimento emanato dal comune napoletano è contenuto anche il disciplinare in cui sono spiegate le modalità e i criteri di utilizzo delle future bacheche che potranno essere utilizzate da tutte le imprese funebri. Un dispositivo che mira ad evitare che i manifesti funebri siano affissi in giro per la città e questo per un duplice motivo. In premissa proprio per un fatto di decoro urbano perché oggi ci troviamo nelle condizioni che tutte quante le cabine della SIPO, dell'Enel sono di fatti diventate delle tabelle per le affissioni funebri. E poi anche per rispetto verso chi non c'è più e per rispetto verso chi resta. L'ordinanza del sindaco fa inevitabilmente discutere la comunità. I cittadini si dividono tra favorevoli e contrari. I manifesti dovrebbero avere il suo spazio per metterlo. Sarà sbagliato. È perché se è una persona muore che ha i parenti un po' più lontani da come fa a sbagliare. È un'ipocrisia far vinto manifesto vicino al mondo. Per una parte era buono perché uno sapeva che si aggiornava. Per me ha fatto bene. Si deve mettere a posto giusto. Come si fa a sapere quando morono cristiani gli è morti? Invece moriamo manifesto. È morto non so, fra uno che è conosciuto e lo so più. Secondo me è una cosa giusta perché non è ammesso che ognuno prende l'iniziativa e si manifesta dove le pare piace. È giusto tenere in ordine il paese e quindi avere degli spazi dove affiggere questi manifesti. Se c'è una mattina e vogliono cambiare. E no, e non va bene. I manifesti funebri si mettono dappertutto. Al comune di Benevento continuano ad arrivare nuove cartelle esattoriali e si accumulano nuovi debiti. Dunque il comune vede crescere la mole di passività già enorme. Sempre più all'umicino le speranze di evitare il dissesto come spiega anche l'assessore al bilancio Maria Carmela Serluca. Sempre più all'umicino le speranze dell'amministrazione comunale di Benevento di evitare il dissesto finanziario. Continuano ad arrivare cartelle, continua a crescere il monte debitorio di Palazzo Mosti e dunque con l'avvicinarsi della scadenza del 15 novembre l'ipotesi di dichiarare dissesto perde sempre più i contorni dell'ipotesi assumendo ogni giorno in percentuale maggiore quelli della certezza. Lo ha spiegato il sindaco Mastella qualche giorno fa ed oggi lo ha ribadito l'assessore al bilancio Maria Carmela Serluca. L'esposizione debitoria è altissima per cui a fronte di questa esposizione debitoria sto valutando la sostenibilità del piano che in realtà diventa veramente critica per tutta questa mole di indebitamento che noi abbiamo. A questo si aggiungono una serie di altri problemi come ad esempio circa 15 milioni di euro che dobbiamo avere dalle OACP e che non riusciamo ad incassare. Ovviamente questo pesa ancora di più sulle nostre casse. L'anticipazione è altissima per cui a questo punto ho esposto al sindaco queste gravi criticità che noi abbiamo che ovviamente portano non posso dire oggi, domani mattina, andremo in dissesto ma sto valutando seriamente questa possibilità. Recuperare il tempo perduto e individuare sinergie costruttive con Napoli senza una inutile, quanto dannosa concorrenza. Antonio Ferraro è il nuovo presidente dell'aeroporto di Salerno sono parole sue e a Otto Cianne la sicura infrastruttura strategica. Subito al lavoro. Lavorare in sinergia con Napoli e non contro ma soprattutto accederare per fare in modo di recuperare il tempo perduto e rendere il Salerno Costa Damalfi uno scalo appetibile. La nomina a presidente di Antonio Ferraro del nuovo consiglio d'amministrazione che gestisce l'aeroporto segna un nuovo step di un percorso che ha trovato finora non pochi ostacoli. Antonio Ferraro attuale guida di Salerno Energia ad Otto Cianne ha avuto modo di sottolineare le priorità da seguire in particolare nel rapporto dialettico e costruttivo con Capodichino. E' una sfida che chiaramente innanzitutto mi gratifica la scelta che è stata fatta chiaramente e sono grato a coloro i quali hanno proposto il nominativo e cercherò di non tradire la fiducia che hanno riposto. La sfida da un punto di vista professionale è assolutamente interessante e a cui dedicherò tutte le energie disponibili. L'aeroporto è un'infrastruttura a servizio del territorio e come tale deve funzionare. E' chiaro che non si tratta di fare una guerra tra infrastrutture ma bisogna che svolgano insieme un ruolo di supporto al territorio. Le regioni Campania e Basilicata in questa avventura hanno già investito svariati milioni di euro finora con risultati deludenti. Il mancato adeguamento della pista e le criticità in materia di collegamenti di sicuro non hanno aiutato. L'obiettivo adesso è ripartire e provare a recuperare il tempo perduto. Ferraro, manager di comprovata esperienza è anche alla guida della holding dell'energia cittadina in carico che continuerà a ricoprire almeno in questa fase. Insieme a lui nel consiglio d'amministrazione siedono Antonio Ilardi ex presidente dello Scalo ora amministratore delegato con loro in rappresentanza della regione lucana l'avvocato tributarista erpino Walter Mauriello. Scontro al comune di Avellino tra la presidente della commissione cultura Laura Nargi e il segretario generale Riccardo Feola oggetto del contender il teatro Gesualdo sentiamo di più. Sul teatro Gesualdo si consuma l'ennesimo atto di scorrettezza istituzionale su tutte le furie Laura Nargi presidente della commissione cultura al comune di Avellino e scontro aperto con il segretario generale Riccardo Feola nella qualità di commissario del massimo avellinese. La Nargi lo accusa di aver bypassato e mortificato il lavoro della commissione presentando direttamente in giunta l'ok all'affidamento provvisorio al teatro pubblico campano della prossima stagione teatrale del Gesualdo. Con rammarico dice la Nargi devo prendere atto che in tre anni il metodo non è cambiato i consiglieri non sono messi nelle condizioni di lavorare per la città. Sono dispiaciuta perché credo che non ci sia rispetto istituzionale e potrei parlare anche forse di maleducazione. Il ruolo del consigliere comunale è un ruolo di controllo anche di controllo e questo non è loro non ci stanno facendo lavorare non ci permettono di lavorare qui si tratta di non rispettare i ruoli. E nemmeno la buona notizia che la stagione teatrale salva serve a far sbollire la rabbia della Nargi. Me lo auguro però questo è tutto lo sto leggendo sui giornali perché il segretario ha detto che ha indirizzato a noi consiglieri quella relazione è falso. Intanto si aspetta nei prossimi giorni la perizia giurata del professor Pino Terracciano sui conti in rosso del teatro. Nella sua relazione Feola sottolinea come Terracciano avrebbe riscontrato grosse difficoltà per mancanza di dati certi da parte dei soggetti che hanno gestito la contabilità del Gesualdo in passato. E a proda nell'aula del Consiglio Comunale di Salerno dopo molto tempo l'avvertenza delle Fonderie Pisano brevi momenti di tensione al Comune quando si sono incontrati i rappresentanti degli operai e quelli dei comitati ma entrambi si dicono scettici sul ruolo del Comune in questa vicenda. Rossella Strianese Quella delle Fonderie Pisano è un'avvertenza difficile che non sarà certo il Comune a risolvere. Ne sono certi tanto gli operai che ora sono in via di licenziamento dopo il sequestro dell'impianto quanto i comitati dei cittadini che si sono opposti all'inquinamento prodotto dalle acciaierie. Tra le due parti resta alta la tensione e non sono mancati attriti quando si sono trovati in aula Lorenzo Forte e alcuni rappresentanti degli operai ma su una cosa sono d'accordo discuterne oggi all'ultimo punto dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per questa mattina a Palazzo Guerra forse è un po' tardi. Questa è sicuramente una discussione che abbiamo chiesto da tempo arriva in una fase in cui purtroppo ci sono anche altri elementi che si sono aggiunti. Comunque ci aspettiamo che tutte le forze politiche rappresentate in comune abbiano cognizione di quella che è la situazione che stanno vivendo questi lavoratori e che la vertenza delle fonderie diventi anche un punto di riflessione di quella che è la prospettiva industriale di questa città e di questa provincia il comune di Salerno può insieme ad altri spendere diciamo una sua posizione rispetto al nuovo impianto. Ci troviamo di fronte ad un paradosso dopo 40 anni di complicità di silenzi di incapacità di affrontare un'emergenza ambientale che oggi vede anche oltre alle vittime di tante persone vede anche diciamo la crisi occupazionale causato da questo principalmente da questo silenzio troviamo un consiglio comunale all'ultimo punto dell'ordine del giorno quindi cosa ci vogliamo aspettare? Nessuna volontà di fare nulla di concreto nessuna volontà di dare risposte alla comunità martoriata e i cittadini non sono stati per nulla consultati questo è la dimostrazione che questo consiglio comunale non ci rappresenta. Io mi fermo qui tra poco arriva il TG Sport con Marco Festa in studio alle 15 già una nuova edizione in diretta di 8 Channel News arrivederci a tutti a tutti a tutti a tutti a tutti Grazie a tutti.